Passare alla serata fuori 75 dollari Allora 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 Che ne dici di un pompino? A bere le palle di chiederglielo Bottiglia di vino da 12 dollari Ma sei pazzo, i miei potrebbero vederci Amanti, chi vuoi che ci veda? Le cambierò il favore Ti immagini se ci beccano? Mio Dio, cosa ti farebbe mio padre? Non c'è nessuno, dormono tutti È troppo, troppo pericoloso Ti prego Ti amo così tanto Dire davvero una frase così Un'altra bottiglia da 12 dollari Ho solo paura Ti prego Papà dice di fargli sto pompino O lo faccio io O scende e lo fa lui Ma ti prego, digli di togliere il braccio dal citofono Avere una ragazza con il padre spiritoso Non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard